Buonasera gentili telespettatori, un cordiale saluto a voi tutti da Honor News, il telegiornale delle Marche in onda sui canali di TVRS. Apriamo con la possibile svolta nelle indagini sulla morte di una bimba di 6 anni a seguito di un incendio notturno scoppiato l'8 gennaio in un appartamento nel centro storico di Servigliano dove la piccina dormiva con la madre e la sorellina di 4 anni. Dopo vari accertamenti i carabinieri hanno fermato la madre, 38enne bulgara, che sarebbe indiziata di incendio doloso e morte come conseguenza di altro reato. La donna in un primo momento aveva dichiarato di essersi prodigata per salvare entrambe, riuscendoci solo con la bimba più piccola. C'è stato un blitz anti-contraffazione nei confronti di un extracomunitario con precedenti specifici sorpreso mentre era intento alla vendita nella zona industriale di Tolentino. L'uomo in un primo momento era riuscito a far perdere le proprie tracce approfittando della folta a vegetazione circostante. Poi i militari della Guardia di Finanza hanno provveduto alla perquisizione domiciliare dell'abitazione dove hanno rinvenuto numerosi capi di abbigliamento di note griff. Per lui è scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Macerata. Oltre 16 kg di eroina sequestrati al porto di Ancona dalle Fiamme Gialle con un cittadino albanese arrestato. Sentiamo i dettagli in questo servizio. Un'importante operazione antidroga portata a termine dalla Guardia di Finanza al porto di Ancona è avvenuta il 16 gennaio scorso, ma se ne è avuto notizia solo ora. Un carico di oltre 16 kg di eroina è stato infatti rinvenuto all'interno di un furgone sbarcato da una motonave proveniente da Durazzo in Albania. La droga, confezionata in 14 panetti, era nascosta in un doppio fondo in metalli, abilmente ricavato sotto il sedile, lato passeggero. Determinante è stato l'apporto del cane poliziotto H, un pastore tedesco con anni di esperienze ed un fiuto singolare, che è riuscito a segnalare al suo conduttore la presenza della sostanza illegale. L'automezzo è stato immediatamente sottoposto ad esame radiologico con il sistema scanner, sequestrata anche la somma di 3.775 euro ritenuti provento dello spaccio. Un albanese di 37 anni senza precedenti specifici è stato arrestato e rinchiuso nel carcere di Montacuto, avvalendosi poi della facoltà di non rispondere. Sono in corso le indagini dei finanzieri per capire a chi era destinata l'eroina e soprattutto se l'uomo avesse un contatto ad Ancona che lo aspettava per poi aiutarlo nello spaccio. E proseguiamo con la pagina della cronaca. Un italiano ed un romeno residenti a Senigallia sono stati sorpresi mentre erano intenti a rubare quadri, violini, icone ed altri oggetti per un valore complessivo di circa 20.000 euro nella storica dimora del 500 di Villa Palombara, ora utilizzata come agriturisma a Monteporzio. A scoprirli e chiedere l'intervento dei carabinieri è stato il custode dopo aver udito dei rumori provenienti dal primo piano chiuso generalmente al pubblico. I militari hanno bloccato le vie di fuga arrestando i due malviventi. Uno di loro ha patteggiato 8 mesi di reclusione ed 850 euro di multa. L'altro è stato condannato a 6 mesi. Ed un furto è stato commesso presso la scuola elementare Cialdini nel quartiere Crocette a Castelfidardo. I ladri sono entrati forzando una porta nel retro dello stabile e sono riusciti a scappare portando via due computer portatili ed un televisore da 40 pollici, tra l'altro acquistato con i soldi ricavati dalla pesca di Natale. Sul fatto stanno indagando i carabinieri che tuttavia non possono contare sulle immagini di videosorveglianza visto che nell'edificio non erano presenti le telecamere. E cambiamo ora argomento con la festa della Polizia Locale, giunta la quinta edizione che si è tenuta ieri presso il Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Il servizio. Maggiore presenza sul territorio anche con l'ausilio di un'unità cinofila. Questo è stato tra i tanti il principale tema della giornata della Polizia Locale istituita dalla Regione Marche e celebrata ieri al Teatro Ventidio Basso di Ascoli Piceno. Alla presenza della vicepresidente della Regione Marche, Anna Cassini, dell'assessore regionale alla Polizia Locale e Politiche Integrate per la Sicurezza, Fabrizio Cesetti, del sindaco Marco Fioravanti e della comandante Patrizia Celani. Sul palco del teatro una dimostrazione delle unità cinofile che ha lasciato a bocca aperta tutti i presenti. La manifestazione si è poi conclusa con la consegna degli encomi a chi si è distinto per azioni e condotte meritevole alla sicurezza della comunità. Sì, è la quinta giornata. Concludiamo nella città capologo di provincia, Ascoli Piceno. È questo ovviamente un momento di festa ma anche un momento di riflessione come sempre intorno al ruolo della Polizia Locale. è un ruolo importantissimo, centrale per quanto riguarda la sicurezza delle nostre comunità, soprattutto la sicurezza integrata, quella che mette insieme la sicurezza pubblica che è lotta e contrasto alla criminalità e la sicurezza urbana per rendere le nostre città e i nostri ambienti più vivibili. Ad esempio pensiamo al contrasto, all'abusivismo, pensiamo alla tutela dell'ambiente, pensiamo ad esempio alla prevenzione nei quartieri, ad esempio qui in Ascoli oggi verrà presentata un'unità cinofola per il contrasto e la prevenzione per quanto riguarda la droga nei pressi delle istituzioni scolastiche. Ecco, la Polizia Locale su tutte queste tematiche c'è. Iniziati i lavori di messa in sicurezza della prima parte di Corso Vittorio Emanuele a Camerino, fortemente danneggiato dagli eventi sismici del 2016. Si tratta del primo stralcio che va da Piazza Cavour al Palazzo del Comune. La ditta incaricata delle opere avrà 100 giorni di tempo per riconsegnare questa porzione di via ai cittadini. Intanto l'amministrazione comunale è pronta anche a procedere all'affidamento dei lavori per il completamento della messa in sicurezza della stessa strada. Obiettivo? Riaprire il corso a fine primavera. Un bagaglio di conoscenze per affrontare le sfide del mercato è la proposta rivolta alle aziende socie dell'Istituto Marchigiano di Tutela Vini con il piano formativo strategie e strumenti per ripensare il settore del vino nelle marche. Promosso dal consorzio organizzato da officine sviluppo e ricerca con il contributo del fondo interprofessionale For Agri. Un percorso didattico completo che va dall'enomarketing all'inglese settoriale. Sui banchi a partire da questo mese 14 aziende vitivinicole a partire da venerdì prossimo 24 gennaio. In arrivo dalla Regione contributi per la gestione dei rifiuti. Sentiamo i particolari in questo servizio. La Regione continua l'azione di sostegno ai progetti previsti dalle assemblee territoriali d'ambito finalizzate al passaggio dal sistema tributario a quello tariffario, si paga per quanto rifiuto si produce e alla prevenzione e riduzione della produzione dei rifiuti. Con due decreti di fine anno 2019 sono stati infatti concessi ai comuni, su segnalazione delle rispettive ATA provinciali, circa 1.800.000 euro per l'avvio di progetti di introduzione di sistemi di tariffazione puntuale basati su sistemi di rilevamento e contabilizzazione del conferimento di rifiuto da parte di ogni cittadino e circa 900.000 euro per migliorare il sistema a rete dei centri del riuso comunali e intercomunali dove il cittadino può consegnare beni di cui vuole disfarsi ma che possono risultare utili ad altri sottraendoli così al ciclo dei rifiuti. La continua collaborazione con le ATA ci permette di mantenere attiva una serie di politiche virtuose previste nel piano regionale del 2015 e sostenute fin dall'adozione della legge regionale di settore approvata nel 2009, ha dichiarato l'assessore Angelo Sciapichetti. Siamo ora alla pagina sportiva che apriamo con il calcio. confronto tra squadre e tifosi questa mattina al Picchio Village in occasione della ripresa degli allenamenti dell'Ascoli in vista del match di Domenical del Duca contro il Frosinone e dopo il brutto scivolone di Trapani ed il caso da Cruz. Finché si indossa questa maglia bisogna essere professionali e dare tutto, hanno detto i circa 80 supporters presenti nell'impianto sportivo. Poi è regolarmente iniziata a porte chiuse la seduta fisico-tecnica. Ricordiamo questa sera alle 22.30 sul Canale 11 la trasmissione Picchio Club. Domani invece sono in programma le gare di recupero della ventesima giornata del campionato di Serie C. Ad aprire sarà la Vispeso, impegnata nella seconda trasferta consecutiva alle 16 a Bolzano contro il Sud Tirol. Alle 18.30 delicata sfida interna della Fermana sul campo di Ravenna, mentre alle 20.45 a Riviera delle Palme si disputerà il derby tra San Benedettese e Fano, molto importante per la classifica di entrambe. Ed ora parliamo di atletica leggera con la partecipazione record al meeting del Pala Indoor di Ancona che ci racconta Mario Giannini. Weekend memorabile al Pala Indoor di Ancona, ma i cosi tanti nell'impianto capoluogo marchigiano con più di 2.600 atletiche ad iscritti nell'arco delle due giornate di sabato e domenica. La prima giornata si apre con il primato marchigiano, sui 60 ostacoli da parte di Martina Coccu, 17 anni ancora da compiere. La giovane San Giorgese sfreccia nella batteria in 8,60 e migliora il suo limite regionale Under 18, due centesimi in meno rispetto al crono di 8,62 realizzato nella passata stagione per fare ingresso nella top team italiana di sempre per la categoria. L'allieva del team atletica Marche, cresciuta sotto la guida tecnica di Lisa Del Moro, si conferma in crescita anche quest'anno dopo gli esploi della scorsa estate che l'hanno portata in maglia azzurra. La sfida al femminile, sui 200 metri, va all'azzurra Giulia Riva con 24,10 a soli 4 centesimi al suo primato nella gara di esordio stagionale. Si migliorano le giovani marchigiane, l'osimana Angelica Gergo della TAM in 25,53 al debutto per la due volte campionessa italiana dei 400 allievi e Benedetta Mogliani, la SEF Stamburancona, di nuovo al personale con 25,58. Domenica ancora un primato per la nuova impresa della giovane Melissa Mogliani Tartabini. Nei medi 60, la 17enne del grottino in team Reganati si migliora in 7,56 e diventa la marchigiana più rapida di sempre. La sprinter, che vive a Potenza Picena, ed è allenata dal tecnico Alessandro Rovati, nella scorsa stagione ha fatto doppietta ai titoli italiani nei medi 18, nei medi 60 indoor e poi anche nei 100 medi all'aperto, prima di indossare la maglia azzurra al Festival Olimpico della Gioventù Europea. Per la freccia della velocità marchigiana è il secondo posto in finale, dove è preceduta soltanto da Ilenia Traisci, dell'esercito, che vince il 7,52, ma chiude davanti all'altra azzurra, Giulia Riva, delle Fiamme Oro, terza in 7,59. Vole maschile domani alle 20.30 sfida da dentro o fuori per la Lube nei quarti di finale di Coppa Italia. I biancorossi affronteranno in casa il Monza e c'è in palio la qualificazione alla Final Four in programma a Bologna il 22 e 23 febbraio all'Unipol Arena. Gara comunque da non prendere assolutamente sotto gamba, mentre domenica alle 18, sempre in casa, arriva il derby europeo di Champions League contro l'Itas Trentino. E andiamo ora a vedere le previsioni meteo per mercoledì 22 gennaio. Un possente anticiclone conquista l'Italia, regalando a quasi tutte le nostre regioni una giornata ampiamente soleggiata e anche decisamente mite. Spostiamoci ora al centro, dove avremo generali condizioni di tempo asciutto. Il sole splenderà in un cielo che risulterà parzialmente nuvoloso o maggiormente coperto solamente sulle aree meridionali della Sardegna. Concludiamo infine dando uno sguardo alle temperature previste. Di notte i valori toccheranno punte minime di 3 gradi sotto lo zero e non supereranno i 13 gradi su tutta l'Italia. Durante il giorno attendiamo invece fino a 13 gradi al nord e fino a 14 al centro e punte di 15 gradi sulle regioni meridionali. Bene, per ora abbiamo terminato. Per ulteriori aggiornamenti e dettagli visitate le nostre pagine ufficiali di Facebook e di Instagram e il nostro sito ilmeteo.it dove la Il fa la differenza. Arrivederci. Un'ultima notizia è morto all'età di 79 anni Gianfranco Garbuglia, ex calciatore professionista con una sessantina di presenze in Serie A con le maglie di Lazio, Udinese e Messina. Il tersino originario di Corridone ha giocato anche con la San Benedettese. Anche il figlio Enrico ha seguito le orme del padre pur non raggiungendo mai altissimi livelli. Con questo è tutto per il nostro telegiornale. Grazie per la cortesa attenzione.